La speranza è che si riesca ad andare oltre la conferenza dei servizi e si comincia a lavorare seriamente al disinquinamento del canale di Fosso Imperatore, soprattutto a sanzionare chi scarica illecitamente questi gli auspici del sindaco di Nocere Inferiore dopo l'incontro con l'amministrazione di San Valentino Torio, i vertici del Consorzio di Bonifica e i rappresentanti del Genio Civile e a questi ultimi che si rivolge principalmente il primo cittadino di Nocere Inferiore. C'è una conferenza di servizi sul canale di Fosso Imperatore, quindi non parliamo della industrializzazione delle aree ma dei problemi di inquinamento dei canali rigui che compete bonificare al Consorzio, c'è stata una conferenza di servizi tra Comune di San Valentino, Consorzio di Bonifica, Genio Civile e Comune di Nocere Inferiore per individuare coloro che sversano illegalmente liquidi, liquami o altre situazioni analoghe nell'ambito del canale irriguo. Però continuo a dire che il primo appello nostro va in maniera molto forte e al Consorzio di Bonifica e per quanto compete anche al Genio Civile perché le attività di pulizia di quegli alvei vengono fatte a dovere, soprattutto con la raccolta e lo smaltimento dei fanghi, degli ingombranti e di altri materiali che deturpano oltre che rendere anche quello inquinato un tratto di canale di bonifica sul nostro territorio. Siamo stati costretti a sollevare la voce in modo molto duro, speriamo che alla conferenza di servizi seguano anche l'impegno fattivo e diretto da parte del Consorzio che raccoglie dai cittadini un tributo, una tassa, quindi non si vede perché non debba far fronte principalmente sulle situazioni di maggiore criticità, comprendendo che il Consorzio vive delle criticità ma che vanno risolte anche con l'intercettazione di fondi regionali perché si mettano a disposizione dei soldi per fare questi lavori necessari, per pulire per bene gli alvei, liberarli ma non tenerli a dovere. Scontiamo un grandissimo ritardo, questa è una cosa nota non tanto come comune quanto per le autorità di competenza, mentre è stato molto chiaro su questo, che sono sia l'Arcadis sia l'Ente Regione su questo aspetto, per la messa in rete di collettamento fognario del nostro territorio comunale, per il completamento anche in aree centrali dei collettamenti fognari che rendono il nostro territorio sicuramente un territorio di rischio, ma noi abbiamo ripetutamente invitato e sollecitato l'Arcadis in prima battuta, poi l'Agori che è l'Ente privato che può farsi carico della progettazione e dell'esecuzione dei lavori e di recente la Regione perché ci accompagni in questo percorso.